La coppetta mestruale come alternativa sostenibile ma anche economica agli assorbenti che tutti conosciamo e ai tamponi femminili, un prodotto che stenta a decollare e conquistare il mercato delle donne, delle ragazze, soprattutto per il sostanziale cambio di abitudini che comporterebbe il suo utilizzo. Nonostante però, secondo un nuovo sondaggio, le coppette mestruali potrebbero essere molto più sexy di quanto si pensi. La società intimina avrebbe recentemente chiesto a 1500 donne come la loro vita sia cambiata durante il ciclo mestruale, da quando hanno sostituito gli assorbenti comuni con la coppetta mestruale. Più di un quarto delle intervistate avrebbe dichiarato di aver notato un molto miglioramento nell'attività sessuale, quasi la metà che riescono anche a dormire meglio, in modo molto più. Con le ricerche di migliorare la vita di una donna a livello sessuale. Questo sarebbe quanto, grazie per l'ascolto, coppette mestruali dunque che danno la possibilità di sostituire i comuni assorbenti e di favorire anche una capacità nell'avere rapporti sessuali più intriganti di migliorare il tuo partner.